E' uscito il mio nuovo libro I Sereni della Magia in tutte le librerie d'Italia e anche su Amazon Vi lascio il link sotto in descrizione e mi raccomando condividete le vostre foto su Instagram Mi chiamo Lorenzist Ma ti ricordavo diverso E' diventato una Big Bubble Blu Ragazzi benvenuti su Amici Arcobaleno Si che bello un gioco di amicizia un gioco con colori Arcobaleno Ti piacerebbe Ci sono questi amici Arcobaleno che ti cercano per trovarti Perché ti vogliono mettere dentro il panino Ragazzi aiutatemi per sconfiggere gli amici Rainbow Lascia un like ora immediatamente ed iscriviti al canale Sono la Big Bubble Blu Ti cercherà di notte Benvenuti su Rainbow Freeze Perché ci sono delle scatole? No aspetta non mi dire che Mio gioco dell'anno 10 su 10 Vai Snake fai vedere a tutti chi sei Nonno no 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 Nonno no 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 C'è le scatole ci servono per nasconderci Va bene allora sono pronto Andiamo in Pullman Forza Chissà dove andremo in gita scolastica Scolastica In una fabbrica di giocattoli Ed eccoci qua Nella strada per andare Ok allora cantiamo la canzone Se facciamo un incidente schioppasone con la docente Aspetta no io stavo scherzando Non è che ora veramente mondo strano Ma io scherzavo no Ho combinato una stracce No no stanno rapendo pure le ragazze Ma che gioco è questo Aspetta ma non è stata rapita solo la ragazza Benvenuti ho bisogno del vostro aiuto Chi sei uomo misterioso Questi sono dei blocchi Ok dei blocchi di giocattoli No non mi dire che siamo in una fabbrica di giocattoli Non ci tengo I miei blocchi sono caduti Che vuol dire che sono caduti Tutto quello che devi fare è trovarli e rimetterli al posto Buona fortuna Ma non ti potevi chiamare il maggiordomo Pingu siamo stati rapiti Ma chi farebbe mai questa cosa di un pinguino No fantastico Ma questa è tipo la fabbrica di Willy Wonka Ok il nostro scopo è trovare 24 blocchi Che dovrebbero essere in giro per la mappa presumo no Dovrebbero essere Ecco un blocco Vai pingu Nooo Lo so siamo i più forti Ok ci sono delle frecce Credo che io debba seguire le frecce Che mi dovrebbero portare in un luogo oscuro Ehi ma come cambina Ma come cambina quella Bu non lo so Ok Un altro blocco pingu Mamma mia ragazzi Già due blocchi Ma che cosa ci servono i blocchi effettivamente Cioè noi siamo stati rapiti Da un maggiordomo malvagio Per rimettere a posto i suoi blocchi Maledetti ambrogi Ma veramente Ok seguiamo le frecce blu Chissà da dove portano Trovo i blocchi e riporto il teatro Segui le frecce blu Ah Ok al teatro Ecco i blocchi Ne mettiamo due Grandissimi Wow è bellissimo questo posto Cioè è enorme Qua ci sono i scimmie Mi posso anche nascondere? No vabbè Aspetta Ma se mi posso nascondere Vuol dire che c'è qualcosa che non va qua Nooo Di solito Se uno si deve nascondere È perché c'è un mostro Perché tutti si nascondono dentro le scatole? Che c'è? Cos'è sto rumore? Ragazzi Perché vi nascondete nelle scatole? Fingo Cosa vuol dire? Che cos'è quel coso? Aiuto Scappa scappa Utilizzi il potere delle scatole Vai Mi sono nascosto Non esisto Non aver paura È solo una scato Non esisto Aiuto Questo qua è veloce Mi sta inseguendo Scappa Pingu Nooo Nooo Ok Dovemmo cercare altri blocchi 21 di 24 Ehm Ne ho solo uno qua Dove lo trovo gli altri? 22 di 24 Il mio è il 23 Allora ne manca solo uno Ragazzi Frecce blu Andiamo a mettere questo blocco E vinciamo Eccolo 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 E' là Io posso questo Ma che ce la possiamo Oh mamma mia Che infarto Aiuto Ah in blu Tapatì Tapatai Tapatì Tapatai Tapatì Tapatai Tu non mi hai visto Stai seguendo proprio me Vero? Dai che ne rimane solo uno Ok Dovrei scendere di qua E dovrebbe essere Da queste parti Comunque questa fabbrica Di giocattoli è enorme Ce l'abbiamo fatta Sì Grazie Speriamo che blu Non ritorni mai più Chi è questo? Ma è un gonfiabile Ma è tipo uno di quei gonfiabili Che fanno Seconda notte Contro chi dobbiamo andare Dai forza 10 Fatevi sotto Sembra che Green Sia sveglio Penso che sappia Che sei lì dentro Ma non c'è bisogno Di preoccuparsi Lui è cieco Come può prenderti Se non può vederti? Mi può sentire Sì però Pico Non è giusto Devi tapparti un attimo Eh Perché se no le scorreggie Si saranno sentire tutte Ok allora Stavolta devo trovare I pacchi di cibo Allora iniziamo Troviamo i pacchi Oh Vabbè senti Io vado da questa parte Wow Ma che sono Tipo le ce Che è sto rumore? No Ma è blu Nasconditi Nasconditi Qualcuno scappa Di qua Ho paura Molta paura Mi sto andando sotto Andiamo di qua Oh Scappatene No Non è colpa mia Se sono entrato là dentro Non ti sei Guarda Là c'è un pacco No Non ci vado io Via Scappatene Valla a prendere Vai a prendere il pacco Siamo su 8 di 15 Dobbiamo sconfiggere verde Mamma mia Tutti questi colori Mi stanno massacrando Siamo a 8 di 15 Dove sono gli altri? Kek È stato trovato E che cavolo Ok andiamo di qua No No Questa scena Non la volevo vedere Oh no 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 Blu Blu Non ha visto me È vero Non ha visto Mannaggia blu Posa sti croccantini Qui Ok Ah ma questi sono tipo 13 di 15 Allora ne mancano solo due No Scappatene Ficco Lui è cieco Ma può sentirti No Oh no Ma questo è un inferno Ma questo è un inferno Ma io me ne vado 14 di 15 Ragazzi Ne rimane solo uno No Porca miseria Che inferno Aiuto Che qualcuno Aiuto Lo mi insegue Ecco il pacco Ce l'ho io L'ultimo pacco Ce l'ho io Ok l'ho preso Che è stato trovato Non aveva molta karma Non aveva molta karma Ci pensio io Teatro Vai No no Blu Blu Non ti azzardare Blu Beccati questa I'm blue Tapati Tapatai Tapati Qualcosa mi dice Che ora c'è Arancia Che sorpresa Arancia ha lasciato La sua caverna Ma che ci entrasse Nella sua caverna Stasera È l'ultima notte Dopo Aver riparato La mia macchina Ti mostrerò Perché sei davvero qui Forse perché Siamo un pazzo Che mi vuole rapire Perché le prese d'aria Non hanno iniziato A fuoriuscire No Non mi dire che Arancia Esce dalle prese d'aria Ho bisogno un po' d'aria Ho bisogno di un po' d'aria Ok Devo trovare Quattordici lampadine E va bene Che illuminano la giornata Troviamo le lampadine Wow Ma che bello Che Io non ho visto niente Ah È stato rapito Aiuto Ok Calma Il primo amico di blu Io non voglio essere Nel secondo Nel terzo Grazie Ok Prendiamo tutti i possibili C'è un tizio Oh blu Ah in blu Dappadi Dappadai Dappadi Dappadai Quanto è veloce Blu Nasconditi 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 Al mio via Tecnica di solid snake Scatola Ah così Così si è randato D'accordo snake D'accordo Perfetto Abbiamo tre lampadine Lampadina di color Rosso lampadina di color Blu e lampadina di color Giallo Oh no Chi è questo coso Sembra che qualcuno Abbia dimenticato Di dare da mangiare All'arancia Quale arancia Ragazzi in chat Fate qualcosa Non parlate arabo Non parlate italiano Grazie Devo spiegare C'è qualcosa Che non va qui Devo dare da mangiare All'arancia Oh Che succede Cos'è questo rumore Oh Chi è quello Quello è un'arancia Ma è un'arancia Ma è un dinosauro Ok me ne vado Me ne scappo Me ne scappo Pingu Dobbiamo mettere Le lampadine Dov'è il blu? Dov'è il blu? Vai al teatro Un altro fusibile Siamo a quattro Un altro Siamo a cinque Siamo a sei Tutte io li ho Mettili tutti Sei di quattordici Perfetto Ho fatto tutto io Grandissimo Che complicatezza Sto gioco Aspetta che ho bisogno Un po' di Ho bisogno Un po' di Lo so È difficile Questo gioco Ma io Basta che non divento Amico di blu Io voglio sapere Chi è quel pazzo Che ha deciso Di rapire un pinguino E di metterlo qui Eccolo Ho trovato il fusibile Ho trovato È lì È uno degli ultimi Forse che ce la facciamo Forse Non posso passare Come faccio? Osvaldo Tornate l'Eisvaldo Bravo Bravo Chi l'ha preso? Qualcuno l'ha preso Oh mamma È verde È verde Sì Finalmente Abbiamo superato Anche questa notte Che cosa sta succedendo? Sta esplodendo Visto che succede A non pagare Le bollette Dell'Enel Ti stacco La corrente Sai che faccio Con questa Pink bubble Blu La mastico E la sputo Puh Ma che fa quello? Ma che fa Twerky Io non lo so In un momento così critico Sembra che dovrai Riaccendere la corrente Probabilmente Ne avrai di bisogno Delle torce Oh finalmente Un po' di torce Che non si vede niente Grazie Vi lascerò andare tutti Una volta che tutti Avranno una fetta di torta Aprirò l'uscita E potrai andare a casa Divertiti No Non Calpestare palloni Ok Non toccare palloni Bravo Fette di torta Ho vinto No ma dai Cosa vuol dire? Fatta apposta Via Oh no No Oh ma no Metti pochi waki Ma la corsa dentro Dentro i cunicoli Dentro le ventole Da che parte vado? Da qua Da qua Cazzo è troppo veloce È velocissimo Vai giù No 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 Di qua Di qua Vai vai Scappa 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 Ci manca poco Ci manca poco Sono sopravvissuto Forza Sì Wow Siamo sopravvissuti Gli amici rainbow Non vedo allora che esca il capitolo 2 ragazzi Sarà secondo me bellissimo Ma chi è questo? Sembra che li abbia sottovalutati Ma che è un alieno? Le cose stanno per diventare molto più folli Ragazzi Io direi che questo video su Rainbow Friend Lo potrò anche concludere qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto Là c'è un sacco di pollicini in su Qual vostro Lorenziste tutto E noi ci vediamo ad un prossimo video Eeeh Ciao Ciao